L'abbaiamento è un segno, chiedo scusa, è un dono divino per le anime accolte nell'imperio. Ad ogni accrescimento di grazia aumenta il grado di elevazione e di possesso della visione beatifica. Nel passo biblico il fiume significa, secondo la comune esegesi, la partecipazione alla vita che Dio stesso possiede. Il quadro acquista il rigore pittorico di un fondo oro dei dipinti e dei mosaici, simbolo della beatitudine celeste su cui si staccano i colori e le figure ideate dall'artista. Qui i fiori di primavera spiccano sull'intensità dell'immagine della divina fiumana d'oro. Nell'allegoria dantesca il fiume è il Lumen Gloria, le due rive, il Vecchio e il Nuovo Testamento, i fiori, i beati, le faville e gli angeli. Alla staticità dell'imperio si contrappone per la simbologia della Caritas l'idea di un ferventissimo moto.